Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione di Lightroom. Oggi vediamo come correggere l'obiettivo che abbiamo montato sulla nostra macchina fotografica e in più andiamo a vedere come fare delle modifiche morfologiche alle nostre fotografie. Oggi vediamo altre modifiche all'interno di Lightroom, in particolar modo andiamo a spulciare tutte quelle modifiche che fanno riferimento, come già detto, alla correzione dell'obiettivo ma non solo, anche alla trasformazione. Quindi facciamo un video unico per spiegare due degli aspetti che sicuramente ricoprono una parte abbastanza importante nel nostro sviluppo fotografico. Iniziamo fin da subito andando ad analizzare quella che è la correzione dell'obiettivo. In particolar modo io vi porto come esempio due cose. La prima è che questa foto è scattata con Fujifilm e poi vedremo un'altra foto invece scattata con Nikon. Altro aspetto, vi porterò delle foto scattate sì con Fujifilm ma con particolari obiettivi e foto scattate con Nikon con altri particolari obiettivi. Questo perché? Perché quando andiamo nel pannello, nella sezione correzione obiettivo, abbiamo la possibilità, e vi consiglio di farlo sempre come primo step e poi vi spiegherò perché, di attivare appunto la correzione dell'obiettivo. Se voi andate ad analizzare adesso la finestrella si sono accese delle opzioni dopo che io ho messo la spunta. Il problema qual è? Che 99 volte su 100 Lightroom così come Camera Raw identifica da solo in maniera autonoma il tipo di macchina fotografica e anche l'obiettivo montato su di essa. Ora in questo caso non riesce a trovare nella marca nel tipo di modello di lente che è stata montata su questa macchina fotografica. Quando succede questo, diciamo, la maggior parte delle volte può essere colpa del fatto che abbiamo una versione di Lightroom o di Camera Raw che non è aggiornata e quindi dobbiamo aggiornare il software. Altrimenti se si presentasse comunque questo tipo di problema noi possiamo aprire un menu, vedete, piuttosto fornito con tutte le marche, diciamo, di macchine fotografiche ma non solo perché troviamo ad esempio anche la DJI che fa droni o comunque la GoPro che si fa macchine fotografica ma sono delle action camera. Quindi troviamo veramente tantissime marche. Tra di queste cerchiamo Fujifilm perché noi sappiamo che abbiamo scattato con Fujifilm, eccolo qua, e automaticamente lui associa la Fujifilm alla Finepix X100. Ora, questa era scattata con X-Pro 2, però diciamo che l'accoppiamento che riesce a fare Lightroom è quello che si associa meglio, diciamo, al modello di macchina fotografica utilizzata. Quindi se io faccio un primo o un dopo vediamo come questo tipo di correzione mi va ad agire su due aspetti che vediamo qua sotto, cioè la distorsione e la vignettatura. Cioè questa è la foto originale, se noi la guardiamo facendo un prima o un dopo vediamo che comunque si ha una sorta di distorsione vista appunto l'effetto che si va a creare. Ma soprattutto abbiamo anche, guardate ai bordi, una ingente vignettatura, insomma è piuttosto netta. Ecco, con questo tipo di correzione possiamo eliminare i difetti della lente in questione andando quindi a mitigare distorsione e vignettatura. Possono esserci dei casi in cui la distorsione e la vignettatura in realtà ci servono. Esempio, questa foto mi piace con la vignettatura così, ok, attivo la correzione della lente in maniera tale da eliminare la distorsione, vado su vignettatura e riporto il valore a 0 e ritorno alla mia vignettatura o eventualmente la porto a 50, a 20 e così via. Quindi ho la possibilità anche di agire su quelle che sono le correzioni che Lightroom fa sulla mia fotografia, diciamo rendendole più tenui. Oppure ho tolto poca vignettatura con questo tipo di modifica? Bene, aumento a 200, posso schiarire ulteriormente, vediamo un prima o un dopo, la zona relativa alla vignettatura. Quindi posso, diciamo, accentuare questo tipo di modifica oppure renderlo molto più tenue. Valori invece che stanno sui 100 ci portano a una semplice abolizione di questi due elementi che quindi ci danno una foto tra virgolette corretta. Vediamo però un altro esempio con la macchina fotografica diversa. Quindi io apro la finestrella, vado ad esempio a prendere la foto in questione e vediamo che questa foto è stata scattata con Nikon. Facendo attiva correzione profilo automaticamente mi riconosce la marca, mi riconosce automaticamente la lente, intanto vi faccio vedere anche la lista che è veramente immensa, praticamente ci sono tutte le lenti di casa Nikon, vedete è veramente enorme come database e guardate mi riconosce automaticamente la lente che avevo montato quel giorno quando ho fatto la foto, l'85 mm. E ovviamente associa un suo profilo di correzione a questa lente. Ora quello che mi preme farvi vedere è la seguente cosa, un prima e un dopo. Guardate, non sempre, quindi non è detto che tutte le lenti quando facciamo questo tipo di correzione vadano a portare delle tra virgolette modifiche alla nostra foto, cioè in questo caso l'unica cosa che viene corretta alla fine è la vignettatura di distorsione viene corretto poco, quasi niente. Questo perché? Perché ci sono delle lenti in commercio che hanno comunque una buona costruzione e diciamo incorporano in sé una distorsione praticamente nulla come può essere in questo caso, ma di contro abbiamo invece una vignettatura piuttosto imponente. Come prima posso rendere più tenue e quindi far riemergere la vignettatura oppure posso diciamo schiarire ulteriormente. Attenzione che la vignettatura che abbiamo qui è la vignettatura tipica, tipica del nostro obiettivo, quindi è una vignettatura legata alla lente montata sulla macchina fotografica che è cosa ben diversa rispetto alla vignettatura che possiamo aggiungere in un altro passaggio sul Lightroom proprio come effetto sulla fotografia. Idem dicasi sempre per un'altra foto, questa volta scattata con Nikon sempre, ma con un grand'angolo. Se io vado a fare l'attivazione della correzione vedete come a seconda del tipo di lente che io vado a montare ho un profilo tipico per la lente, in questo caso era un tocchino a 11-20 e vedete come la distorsione si va a correggere in maniera proprio enorme diciamo e anche qui posso diminuire, accentuare ulteriormente, ok? E lo stesso dicasi per la vignettatura. Quando è che in realtà un effetto riguardo per esempio la distorsione ci può servire? Prendiamo ad esempio questa foto. Nel caso in cui io volessi fare una fotografia dove risalto il volto della modella magari stondandolo anche un pochino rispetto a come effettivamente è nella realtà, se io vado a fare un'attivazione del profilo lente per la correzione, cosa abbiamo? Ovviamente il viso, vedete, ritorna un pochino più affusolato e quindi è molto meno stondato, però io in realtà sto contravvenendo a quello che volevo effettivamente realizzare, cioè un viso un po' più pacioccone dove magari anche gli occhi erano un po' più grossi e quindi semplicemente abbasso la distorsione e questo può essere un caso tipico. Altro esempio è magari nelle foto di moda dove vogliamo sfruttare la profondità di campo piuttosto che le inclinazioni dei piani o altro, se io vado a attivare la correzione del profilo lente e quindi anche una correzione poi delle varie distorsioni, praticamente il giochetto viene meno. Quindi attenzione a quando volete correggere appunto il profilo della vostra lente se necessitate o meno della vignettatura piuttosto che della distorsione. Vediamo invece un altro aspetto sempre che fa riferimento alla correzione del nostro obiettivo, quindi della lente. Ci sono delle lenti che purtroppo essendo di qualità inferiore soffrono di ad esempio flare piuttosto che di aberrazioni cromatiche e proprio su quest'ultimo ci dobbiamo concentrare perché Lightroom così come Camera Raw ripeto ci consente di eliminare questo difetto che diciamo il più delle volte è anche abbastanza tra virgolette carogna, cioè ci va a rovinare i bordi della nostra foto. Ora zoomiamo un attimo su questi palazzi, questa volta anziché uno zoom a uno su uno quindi al 100% ho utilizzato uno zoom un pochino più spinto, quindi se io vado soprattutto in questa zona qua vediamo che ci sono delle aberrazioni cromatiche abbastanza pronunciate, un po' sul giallo, ma soprattutto queste qui violace e barra blu. Io posso ovviamente attivare sempre la correzione del mio obiettivo per andare a mitigare problemi legati alla distorsione e alla vignettatura, però se io vado ad attivare, guardate anche sul semaforo che è aberrazione enorme, vado ad attivare anche la voce rimuove aberrazione cromatica, automaticamente Lightroom rimuove, vedete, tutte le aberrazioni presenti nella fotografia, tutte queste linee blu, tutte queste linee gialle e così via. Purtroppo ci possono essere comunque dei casi in cui la aberrazione cromatica è veramente ignorante, proprio forte, spinta e quindi il semplice cliccare su questo pulsante non ci consente di eliminare questo difetto. Allora noi andiamo in manuale. In manuale noi abbiamo la possibilità di, vedete, agire su due elementi, cioè il fattore e la tonalità viola ed il fattore e la tonalità verde. Quindi questi fattori e tonalità verde vanno in coppia, fattori e tonalità viola vanno in coppia. Cioè mi si dà la possibilità a me, ritoccatore, di aumentare o meno il fattore, cioè tra virgolette la desaturazione delle aberrazioni cromatiche e poi di scegliere anche la tonalità. Ad esempio, torniamo sul profilo e disattivo questa opzione. Praticamente io ho questa linea blu. Nel caso in cui attivando l'opzione questa non scomparisse del tutto, io ho la possibilità di andare in manuale, seleziono la tonalità che, diciamo, mi interessa, quindi un blu piuttosto scuro, che si troverà in questa zona qua, nella slide della tonalità viola, e vado ad aumentare il fattore. Quindi questo mi consentirà di mitigare ulteriormente quella aberrazione cromatica che purtroppo rimane sulla fotografia dopo la rimozione automatica di Lightroom. Attenzione, perché questo tipo di comando va ad agire sulla saturazione, ci possono essere dei casi in cui, e a me è successo, soprattutto nei ritratti, che andando a togliere l'aberrazione cromatica poi si va ad agire anche sui bordi di altre porzioni di fotografia che invece ci interessano e che appunto devono essere tra virgolette colorate. È il caso tipico di un ritratto in cui abbiamo delle aberrazioni cromatiche rosse. Se io vado ad accentuare troppo questo fattore, praticamente io vado a, in un certo qual senso, levare anche i bordi, per esempio, del rossetto, cosa che invece io non voglio fare, ok? Quindi attenzione a scegliere in maniera corretta la tonalità, attenzione a non esagerare con l'eliminazione delle, diciamo, delle componenti che fanno riferimento alle aberrazioni cromatiche, perché spesso si va ad agire anche su altre porzioni, però diciamo anche che un semplice clic su questa opzione ci consente, vedete, di eliminare praticamente la maggior parte delle aberrazioni cromatiche presente all'interno di una fotografia. Torniamo un attimo su questa foto perché completiamo appunto la descrizione del pannello manuale al di sotto di correzione obiettivo. Come vi dicevo in precedenza abbiamo anche la possibilità di agire su distorsione e vignettatura che però non riguardano il nostro obiettivo ed è questo il caso, cioè io posso andare ad aumentare barra diminuire la distorsione che ho nella mia fotografia prescindendo dal tipo di lente che ho montato sul reflex, sulla macchina fotografica in generale. Quindi io posso andare, vedete, a diminuire il mio fattore di distorsione, posso andare ad aumentare il mio fattore di distorsione creando quasi degli effetti fisheye, anche un po' grotteschi, ok? Quindi ho la possibilità proprio di agire sulla fotografia. Ho fatto l'esempio di questa foto ma potrei fare l'esempio di qualsiasi altra foto, ad esempio questa qui. Se io volessi ingrandire appunto ancora di più il viso, rendere un più pacioccone, andare ad agire sugli occhi soprattutto, posso andare a, vedete, a stondare. Ora in questo caso l'effetto che andiamo a fare praticamente, andiamo ad aggiungere a come punto, tra virgolette, di ancoraggio il centro della foto oppure, e quindi diciamo in questo caso voglio ingrandire il naso più che gli occhi e il volto in generale, oppure, dicevo, posso, se è troppo ingrandito, diciamo diminuire l'effetto della mia distorsione e poi andare a ritagliare la foto per eliminare queste cornici bianche che si vengono a creare. Altro aspetto fondamentale è quello della vignettatura, quindi posso andare ad aggiungere una vignettatura più chiara, vedete come vado a schiarire i bordi, posso aggiungere una vignettatura più scura, come posso andare a scurire i bordi. Posso anche muovere il mio punto intermedio, cioè il punto da cui parte la mia vignettatura, in sostanza, restringendolo oppure allargandolo e quindi limitandolo il più possibile ai bordi della mia fotografia. Ripeto che questo è un tipo di azione riguardo la vignettatura che non è legato al tipo di lente che abbiamo montata. In realtà esiste anche un altro modo per andare ad agire sulla vignettatura in maniera molto più pesante e proprio più come effetto, tant'è che troviamo sotto la voce effetti, e lo vedremo poi in un altro video, la voce vignettatura. Quindi qua non mi dilungo perché sarà argomento di altro video, torniamo quindi a parlare della nostra correzione lente, dell'obiettivo e abbiamo visto appunto tutto quello che riguarda la distorsione, le aberrazioni cromatiche e ancora la vignettatura che può essere tipica della lente oppure una vignettatura sulla quale possiamo agire in un secondo momento, quindi non legata strettamente alla nostra lente, al nostro obiettivo. L'ultima opzione che mi preme farvi vedere è quella che fa riferimento a vincolo a ritaglio. Se io attivo questo tipo di opzione potrò fare una distorsione rimanendo però vedete legato alla mia fotografia, al taglio che ho fatto della mia foto, quindi non si vengono a creare quelle cornici che avevamo visto in precedenza. Cambiamo foto adesso e andiamo a vedere tutto quello che riguarda la trasformazione della nostra foto. Al di sotto di correzione lente troviamo la trasformazione con tutta una serie di opzioni che ci permettono di cambiare la morfologia della foto. In questo momento è disattivato, io posso utilizzare una serie di opzioni predefinite come ad esempio automatico, cioè Lightroom analizzerà automaticamente la foto e la correggerà, in questo caso non trovando una serie di linee piuttosto che di prospettive o altro, diciamo ci espone nessuna correzione che è stata effettuata appunto perché, ripeto, non ha individuato linee o elementi particolari su cui agganciarsi. Abbiamo poi la possibilità di scegliere anche fra tre opzioni, cioè in piano, verticale e completo, ovvero sia Lightroom analizzando le linee della mia fotografia andrà a correggere la foto stessa se presenta dei difetti, diciamo. Ora prendiamo ad esempio questa fotografia, se io vado a fare una correzione automatica automaticamente vediamo che mi va a correggere che cosa? Sostanzialmente l'inclinazione e la rotazione della mia fotografia. Avrò anche la possibilità di selezionare invece elementi come in piano oppure verticale, vedete come va a variare la modifica, la morfologia della foto andando a raddrizzarla in base alle linee che sono presenti in fotografia. Con completo ottengo invece un livellamento sia orizzontale che verticale, quindi è un'unione diciamo dei primi due. Torniamo un attimo su questa fotografia per completare il pannello trasformazione, cioè un pannello che ci permette con queste ulteriori opzioni di completare la modifica della nostra foto, cioè abbiamo la possibilità di agire su una serie di fattori, io ve ne farò vedere alcuni, come ad esempio ruota per ruotare l'immagine ovviamente, oppure aspetto per cambiare l'aspetto della nostra foto, quindi renderlo più a 16 noni, oppure fare una foto quadrata e così via. Poi abbiamo scala che invece ci consente di zoomare all'interno della foto o di diciamo fare dei passi indietro tra virgolette, spesso mi capita di utilizzarlo, preferisco però in genere anziché usufruire di scala, preferisco fare un crop della foto, mi trovo meglio, ma questi sono un suono, gusti personali diciamo. Concludiamo ora con l'ultimo strumento che è stato diciamo inserito anche in Photoshop, in Camera Raw soprattutto nelle ultime versioni, uno strumento che ci permette di fare delle correzioni molto mirate, agendo su due linee, su due guide, quindi vi mostro subito come funziona. Abbiamo questa foto in cui ovviamente le linee cadenti sono veramente ingenti, sono pesanti, si vedono, insomma è anche un po' brutto tra virgolette vedere un campanile storto in questo modo. Questo effetto è dato dal grand'angolo e quindi cerchiamo di correggerlo o perlomeno di attenuarlo. Tiriamo la prima guida in orizzontale, questa sarà a identificare la base d'appoggio della nostra chiesa diciamo. La seconda linea verticale la tiriamo in questo modo, facendo incrociare le due guide. Vedete come questo tipo di modifica mi ha permesso di, vi faccio vedere, quindi speggiamo un attimo, eccolo qua. Un prima e un dopo, guardate come questo tipo di modifica mi ha consentito di attenuare sicuramente le linee cadenti. La chiesa quindi non sembra più storta, è molto più diritta, si potrebbe fare ancora molto di più e mi ha mantenuto la base orizzontale di appoggio, ma ha agito soprattutto verticalmente per riadirizzare il campanile. Se io torno sulle mie guide posso anche muovere, quindi variarle ulteriormente e cambiare gli effetti che ottengo. Vedete? Eccolo qua. Posso veramente agire in tutti i modi, posso addirittura storcere la chiesa nell'altro verso, quindi ottenere delle linee cadenti completamente diverse. Quindi una volta trovato il giusto compromesso abbiamo anche diciamo corretto le nostre foto dal punto di vista di queste linee cadenti. Attenzione perché fare questo spesso e volentieri comporta un crop dell'immagine oppure alcuni pixel escono fuori dai bordi, come in questo caso. Se io spingo troppo questo effetto, il pennacchio, la parte sopra, non so come si chiama, del tetto della chiesa praticamente esce fuori dal bordo superiore, quindi diciamo attenzione a quello che fate, perché potete rischiare veramente di tagliare, di castrare completamente una foto, ok? Attenzione. Bene, abbiamo visto con due semplici passaggi come correggere l'obiettivo della nostra macchina fotografica, dal punto di vista del profilo e anche dal punto di vista delle aberrazioni cromatiche, attenzione a fare questo tipo di operazione all'inizio, in quanto se voi attivate fin da subito la correzione del profilo avrete una distorsione corretta ma anche una vignettatura corretta, quindi spesso e volentieri la correzione soprattutto della vignettatura ci consente in alcuni casi di agire meno sulla slider delle ombre, quindi se fate già questa correzione all'inizio avete la possibilità di non dover tornare indietro, ricambiare la slider delle ombre piuttosto che dell'esposizione, quindi rifare 150 volte le stesse cose. Io quindi vi consiglio, parere personale, come ognuno fa come vuole, di partire dalla correzione dell'obiettivo e poi iniziare con le correzioni di base. In conclusione poi, come ho detto nei video precedenti, aggiungiamo la nitidezza e salviamo la fotografia. In un secondo momento poi abbiamo visto anche la trasformazione della foto, quindi come lavorare sulle linee della nostra fotografia, aggiustandole, correggendole oppure variandole completamente e quindi se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale, vi aspetto come sempre ai prossimi video ma soprattutto sul sito www.photoshoptutorial.it e sulla pagina facebook Emanuele Brilli Photoshop and Photography. Ciao!